buongiorno a tutti buongiorno da vincenzo penna investire punto biz e come sempre come tutte le mattine siamo di nuovo insieme con la rubrica caffè e mercati oggi mercoledì 24 maggio come sempre facciamo partiamo diciamo dal il focus nostro all'inizio sempre sul calendario economico quindi mi sposto molto brevemente su ciò che è successo oggi che potrebbe succedere oggi allora sono due le notizie molto importanti la prima è stata la decisione sui tassi di interesse per quanto riguarda la banca centrale neozelandese che ha confermato le aspettative di un aumento di tassi di 25 punti base già si stava iniziando a pensare ad una pausa quindi questo momento significa che la banca è ancora intenzionata nella nella sua strada diciamo con rialzo dei tassi quindi potrebbe esserci un riapprezzamento per quanto riguarda il dollaro neozelandese detto questo un'altra news importante un altro dato importantissimo è l'inflazione headline per quanto riguarda il regno unito che è in netto calo del rispetto al 10,1 per cento il mese scorso ma è leggermente al di sopra delle aspettative quindi una decrescita che finalmente la stiamo avendo marcata anche nel regno unito però una decrescita che non ha rispettato le aspettative quindi vedremo un po come il mercato soprattutto tutti i cambi valutari con la stellina inglese come reagiranno per andare a diciamo a fare le nostre considerazioni se state considerando un trade per le coppie gbp col col gbp magari vi consiglio di attendere almeno la giornata di domani quindi di far scaricare un attimo la volatilità della news di oggi detto questo mi sposto molto molto rapidamente sul sul grafico per parlarvi di natural gas se vi ricordate mi pare circa il 12 il 13 maggio avevamo parlato già di natural gas e avevamo detto che lo stavamo valutando in ottica long perché in ottica long perché il costrutto di bottom era praticamente palese quindi si stava costruendo tutto questo costrutto di bottom che era era particolarmente interessante e mi pare che all'epoca aveva fatto notare questo gap questo gap giornaliero ci eravamo detti che qualora fosse ritornato all'interno di questo gap ci saremmo posizionati long purtroppo l'entrata non l'abbiamo mai avuta però diciamo la view generale era giusta quindi era precisa per quanto riguarda il costrutto di bottom e per quanto riguarda la ripartenza su time frame giornaliero perché questo è un time frame giornaliero quindi una piccola inversione su time frame giornaliero già la stiamo avendo quindi la mia view in questo caso resta comunque rialzista ovviamente i livelli ottimali per poterci posizionare long sono i medesimi quindi sono area 2 2,4 2,38 dollari all'incirca però vediamo un attimo se il prezzo ci potrà dare delle entrate ancor più interessanti allora per quanto riguarda il time frame 4 ore se notate il prezzo diciamo ha creato questa enorme fase di accumulazione su time frame 4 ore che è andata avanti al circa 2 3 giorni ha rotto a rialzo adesso ci sta rientrando quindi sta andando a ritestare tutta questa area che diciamo che ha funzionato da da supporto per i nuovi massimi di periodo quindi qualora quest'area attenesse il prezzo quindi qualora fosse confermata quest'area quindi qualora ci fosse una rottura al di sopra di quest'area potrei valutare un ingresso long posso valutarli in due modi o addirittura già lato price action quindi nel momento in cui magari mi forma un engulfing mi forma un rifiuto netto come ad esempio è stata questa spike qui quindi banalmente se questa candela chiudesse al di sopra della candela precedente potrei già valutare lato price action un ingresso long molto molto speculativo e rischioso se invece voglio essere molto molto conservativo la mia entrata ovviamente si sposta sul livello che vi dicevo prima quindi 2,3 2,4 all'incirca quindi tutta l'area che va tra 3 8 e 3 2 8 e 2 e 4 dollari che praticamente l'ultima area di di rottura del del massimo precedente e poi ovviamente di esplosione di volatilità quindi questa sarebbe la mia migliore entrata possibile in questo caso lo stop loss da inserire è ovviamente al di sotto dei minimi precedenti quindi della dell'ultima accumulazione fatta dal prezzo in quest'area che appunto area 2,22 dollari 2,22 2,20 dollari all'incirca come stop loss ovviamente il target è da posizionare sopra o meglio quasi in pari al massimo di periodo precedente quindi in zona 3 dollari all'incirca che corrisponde appunto al massimo effettuato il 3 marzo questa è un po' l'analisi di oggi volevo ricordarvi brevemente gli appuntamenti per quanto riguarda stasera che o meglio nella giornata di oggi che sono il trading live alle ore 16 quindi tutti i mercoledì abbiamo il trading live alle ore 16 dove andremo a fare o meglio Riccardo andrà a tradare insieme a voi in live quindi sarà un'oretta all'incirca di trading in live con Riccardo questo è un evento a pagamento riservato ai nostri clienti Kimura quindi occhio che offriamo anche questo tipologia di servizi per i nostri clienti Kimura se invece volete un webinar totalmente gratuito come sempre tutti i mercoledì alle ore 18 c'è il crypto webinar quindi evento gratuito vi scrivete tranquillamente da qui con due clic detto questo ragazzi come sempre vi lascio ad una buona giornata e un buon trading a tutti ciao grazie grazie grazie